...la cresta del contatto e questo ha funzionato. ...la cresta del contatto. ...la cresta del contatto. ...la cresta del contatto. La sua logica e una sua utilità naturalmente non deve essere utilizzato come lascia passare di sicurezza, benché meno l'ingresso in luoghi chiusi molto affollati. La sua logica e una lega di sicurezza, benché meno l'ingresso e non deve essere utilizzato come la sua logica. La sua logica e una lega di sicurezza, benché meno l'ingresso e non deve essere utilizzato come la sua logica. La sua logica e una lega di sicurezza, benché meno l'ingresso e non deve essere utilizzato come la sua logica. La sua logica e una lega di sicurezza, benché meno l'ingresso e la sua logica. E' ovviamente il sistema che...